Non è possibile, non vale, non vale Saltiamo il round Dai Di nuovo, ti succhiamo Prego Ah, però no no Ha senso quello che ha detto Ti metto la spada in testa Oh, attenzione L'ho trovato Alex è il ceppato in un posto fermo Forse si sentiva escluso dall'avventura Allora ha detto Voglio essere cercato anch'io Alex ha Forma, quindi Senza offesa signor Magalli, molto simpatico Passiamo avanti Passiamo avanti Comunque il signor Magalli è molto simpatico Usare la pistola Dai, mi ha preso da fuori Dai Ti ha fatto sack da fuori Eh sì, da fuori Da fuori Oh, stack così Di fortuna ma l'abbiamo rubato No, è vero, sì Aspetta che Abbiamo rubato questo Perché Ma dov'è Anna Stiamo a fare quella cosa Ma vaffanquaro Ma questo paio è scemo di testa Cioè, ma non è possibile Non ti fa ridere È bellissimo Dai, non ti fa ridere a te Ma È Anna Nessuno Dai, ma è così Siamo tutti E forse Sì Usare scarsa Quello strappo Eh Se c'è nera Ok Sia Maghi e poi Qualcuno Però Giorgio Le scarpi di Giorgio Hanno lo strappo Ma che è successo? Vieni 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 Grazie a tutti.